Bene, siamo tornati qua con Laura. Cosa fai? Mi rubi il posto? Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sono sempre in compagnia di Mirko. Ciao. Ciao. Ascolta Mirko, adesso ti faccio un gioco che alcuni di loro conoscono già, altri no, magari gli ultimi iscritti. Comunque sia, vi lascio il link in descrizione, sia della performance che del tutorial per poterlo imparare. Allora, mentre mescolo Mirko, ti chiedo di dirmi un valore intermedio fra l'asso e il re. 8. 8, sicuro? Sì. Non vuoi il 7, il 9, il 6? Anzi dai il 7. Vuoi il 7 o vuoi l'8? No, 7. 7, ok. Bene, ora ti chiedo di andare a scartare tutte le carte superiori a 7 perché non ci serviranno. Quindi, da una parte metti tutte le carte superiori a 7 e dall'altra tieni le carte inferiori al 7. Io intanto vado a prendere una predizione. Monti sbagliare, eh? Allora, vediamo. Questa mi piace, anche questa. Però fra le due forse preferisco questa. Ma lascia, non stiamo agli arco a niente. Ci siamo? Quasi. Bravo, donna, re, 9, 7. Perfetto. Perfetto. Da una controllata per vedere se c'è qualche carta più alta del 7. Tatatatatatatatatatatatata. No. Bravissimo. Hai diviso perfettamente le carte. Ora, tra queste carte, dall'asso al 7, ti chiedo di prenderne 4. Aspetta, magari facciamo così. lo stendo, ne prendi quattro e le metti qua coperte, questa, una, questa, due, questa, tre, e la quarta, perfetto, ora gira le pure di faccia quelle quattro lì, un sei, un cinque, un quattro e un tre, che scala che hai fatto, grandioso, bravissimo, non so se si vedono, comunque, bravo, allora Mirko adesso con queste carte, mettiamole pure qua sopra, deve buttare giù tante carte sopra queste, quante ne servono per arrivare al numero da te scelto, quindi sette, capito perché ti ho fatto escludere quelle più alte, perché se fosse stato un nove, come fai ad arrivare a sette? giusto? Quindi prendi in mano il mazzo, sei, quindi quante ne mancano per arrivare a sette? Una, bravissimo, non coprirla, lasciala pure qua, qua c'è un cinque, quindi sei, sette, quattro, cinque, sei, sette, e tre, quattro, cinque, sei, e sette, benissimo, ora invece fai la somma di tutte le carte di faccia che hai scelto tu, liberamente, casualmente una scala da sei al tre, quindi dimmelo, ti do cinque secondi, di già, sei più cinque, undici, più quattro, quindici, più tre, diciotto, grandissimo, diciotto, giusto? Vai a contare diciotto e la diciottesima la lasci qui vicino alla mia, vai, coperta, no no, conta bene che così vedono anche loro, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, siedici, sette, diciotto, diciotto, lasciala qua, ora dopo tutti questi passaggi tu hai scelto liberamente un valore, anzi tra l'altro avevi detto prima otto, poi hai cambiato idea, hai detto sette, no? Hai escluso le carte più alte, hai scelto queste carte qua, che ti hanno condotto poi ad arrivare a questa carta. E io ho fatto la previsione prima ancora che facessi tutti quanti i passaggi, giusto? Non sarebbe incredibile se queste due carte combaciassero perfettamente? Quale giriamo per prima? La mia. La mia? Allora, io come predizione ho scelto il 10 di quadri. Ok, girala tu, pianino, con suspense. 10 di quadri. Falla vedere, falla vedere. 10 di quadri alle... Piaciuto? Sì. Questo è bello, lo puoi fare anche tu. Da uno all'insegno. Sì. Comunque, per fare prima potresti guardarti il mio link in descrizione. Basta che clicchi e vedi il tutorial. Ah. Va bene? Sì. Va bene, dai. Bene, grazie per aver visto il video fin qua. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!